Bentornati amici miei sul canale di Neon Sonic Per il secondo speciale di 300 iscritti ho intenzione di fare questa cosa ovvero un Reagisco ai miei vecchi video Infatti uno tra i praticamente tanti video Vabbè non tantissimi video ma i miei primissimi video Partendo proprio dal primo video in assoluto che ho fatto Il primo episodio di Sonic Adventure 1 La mia serie di debutto e anche il mio video di debutto su youtube Diciamo appunto la serie che mi ha fatto conoscere da tantissime persone Diciamo queste più di 300 persone che mi stanno seguendo in questo momento Mi hanno conosciuto appunto con questa serie Che io vado ancora fiero di aver finito al 100% Adesso noi stiamo cominciando appunto Sonic Adventure 2 Che vedo che vi sta piacendo pure quello Non più di Sonic Adventure 1 perché quello non si può battere Però diciamo che vi sta piacendo Vabbè io direi di partire con il primissimo video E non vedrete soltanto il primo video Vedrete anche altri video Non solo primi ma anche i video privati Sempre appunto tra i miei vecchi video Pensare che io li ho resi privati Non perché non voglio che rimangano sul canale Perché sono fatti male Ma perché io riguardo le cose che io dicevo Nel modo in cui le dicevo Mi vergogno come la morte Quindi vi prego di non prendermi per il culo Chiaramente se voi siete vecchi sul canale Sicuramente li avrete già visti questi video Che no sul canale non li potrà vedere Perché ormai sono privati e non li rimetterò mai più Comunque iniziamo subito col primissimo video che ho fatto Ovvero il primo video di Sonic Adventure E non l'audio Immaginate l'audio come era all'inizio di Youtube Cioè all'inizio per me Indovinate Di merda non si sentiva un cazzo Vabbè questo qui era il primissimo episodio classico Lo conosciamo praticamente tutti Ma come cazzo parlavo? Come cazzo parlavo? Cioè Allora Io mi sto vergognando Ma non proprio tanto Per appunto Per la qualità del video Ma diciamo come Parlavo io nel video Cioè io Ciao a tutti ragazzi Buon appetito Questo nuovo video Mi sono su Sonic Adventure Adesso ne dobbiamo sconfiggere Causa Cioè veramente ero Ero strafottente in una maniera più assoluta Vabbè ovviamente qui La qualità Ma non solo riguardo Dello schermo Ma anche la qualità dell'audio È molto molto migliorata E soprattutto non parlo come un mongoloide Dicendo Ragazzi Adesso io prendo questo joystick Adesso io me lo do in testa Vabbè Spiegazione Logichissima Cosa vuol dire? Ma in tutti i giochi Si va a sbattere contro qualcosa Ma che cazzo dici? E addirittura A me veniva pure l'imbarazzo Di finire la frase A me veniva pure l'imbarazzo Di finire la frase E io non guardavo manco la telecamera Guardavo soltanto il gioco Quindi io facevo Facevo pure finta Che non c'era proprio la telecamera Pensate come ero messo Che merda di video facevo In realtà Adesso che io sono andato a ricontrollare Per bene tutti i miei primi video Il primo vero video che io ho fatto In realtà era uno tra i video Che in realtà io volevo cancellare Perché allora Io vi spiego Se voi andate nella descrizione del canale Io sono iscritto a YouTube O meglio Ho partito il canale nel 2015 Però i video Io li ho cominciati a fare Prima Appunto Di fare Sonic Adventure Quindi inizio 2018 circa Siamo un po' Su quella data lì E il primo In realtà il primo video che io avevo fatto Era L'inizio di una nuova leggenda Ma che dopo la Dopo fa video di merda Ma che in realtà Io rispondo a quello del passato Dopo alla fine Si è riuscito ad arrivare A 300 iscritti Merdi l'applauso Vabbè Non è che 300 iscritti Sia proprio un grandissimo Un numero di iscritti Però diciamo Per uno YouTuber Di questa età È un grandissimo traguardo In realtà Il mio secondo video era Io vi mostro le mie carte di Yu-Gi-Oh Io vi mostro le mie carte di Yu-Gi-Oh Vi mostro le mie carte di Yu-Gi-Oh Ma che cazzo Ce ne frega le mie carte Poi ho fatto anche la parte 2 Perché ce n'avevo un miliardo Poi anche la parte 2 Per Pokémon Veramente non frega Un cazzo a nessuno E veramente Io facevo controllare Tutti i videogiochi che avevo E facevo pure controllare Che io c'avevo Just Dance Ma che cazzo Ce n'avevo ancora Just Dance Lo che si è salvato È sempre di un anno fa Però Inizio 2018 Le novità su Inazuma Eleven Ares e Galaxy Io non sapevo un cazzo Io sparavo cazzate Veramente Io dicevo Quello che per me sembrava logico Non sapevo un cazzo Ah è vero Ecco come mi chiamavo all'inizio All'inizio avevo un altro nome Non era Neon Sonic Ma era un altro nome E con Io volevo copiare Un po' Lo stile di altri youtuber Ovvero che Mettevano Il nome del canale Simile al loro nome Io mi chiamo Andrea Io mettevo Andrew youtuber Che fa Andrea più youtuber Quindi Andrew youtuber Che è il nome di merda Meno male che l'ho cambiato Dopo un anno Nel domani In questo modo Ma è avuto Il galaksi Ma dopo del galaksi Cioè W Allora Dove hai fatto Eh Mi chiedo Ho分icato Che L'animo In realtà Da 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 E Da I hundred fascinated che poi rivedere le cose del passato a me fa impazzire non solo proprio nel far vedere alle persone che mi stanno guardando in questo momento che ormai era il mio passato su youtube però diciamo mi piace anche riguardarlo in generale ok che la qualità è di merda però diciamo che a me fa impazzire ricordare le vecchie cose che dicevo e che facevo e soprattutto ricordarle e risentirle dopo adesso che io ho migliorato sia l'audio che la qualità a me fa impazzire ma aspetta questo che cazzo è questo che cazzo è non avevo un cacchio a fare Death Note parodia c'ha più di 200 c'ha quasi 300 visualizzazioni non avevo neanche 300 iscritti che succede non me lo ricordavo questo video da essere sincero sì sì questo era carino adesso me lo sono ricordato sì ragazzi lì avevo tra il 2017 e il 2018 avevo incominciato o meglio non ho cominciato a vedere Death Note l'avevo visto 5 anni fa però avevo incominciato a riguardarmi Death Note veramente rivedere cose del genere a me fa impazzire aspettate questa la dovete vedere non mi ricordavo pensare che ragazzi io avevo un copione io me lo sono imparato a memoria ma dopo alla fine non è servito un cazzo poi alla fine mi sono pure scordato metà del discorso che io dovevo fare un genio un cazzo di genio pure il buio d'effetto e poi c'è lui a caso ci doveva essere io ma me sono scordato sì perché per chi non avesse capito in realtà quando lui ha finito cioè quel demonio era Ryuk di Death Note quando lui doveva finire il discorso doveva apparire io soltanto che dopo mi era crashato quel video lì perché mi si era spento il telefono quando io l'avevo registrato perché sì io registravo con un telefono da quattro soldi adesso io ho questo qui che è molto meglio di quello che io avevo prima e quando lui finiva il discorso dovevo comparire io che guardavo la finestra e guardavo il vicinato non questo qua e vabbè non ero bravo a fare lo youtuber come in realtà non sono bravo neanche adesso a fare lo youtuber però sono un pochettino migliorato aspetta adesso iniziamo coi video privati e visto che i video privati sono già sono imbarazzanti di loro ho deciso di metterne soltanto uno per i nuovi arrivati ovvero sono incazzato nero 157 visualizzazioni 7 mesi fa non è un video né nuovo né vecchio è tra fine 2018 inizio 2019 anzi no prima dal fine del 2018 quindi intorno a ottobre novembre quindi quando è stato rilasciata questa cosa che uscirà un film di Sonic qui ho detto le peggio cose in assoluto guardiamocelo insieme mi fa troppo ridere mi farà un'ansia perché non sarò io non sarò il solito gioioso che è da in play e vivo con Sonic ma un incazzato nero che si vuole scontare davanti ma che cazzo di capelli avevo all'inizio per fortuna che mi sono tagliati ah è vero non avevo fatti altri due il bello che poi alla fine un anno dopo l'hanno cambiato ma che cazzo ma come gesticolavo con le mani si si però sei calmo in medaglia quindi potrebbe essere anche quello però non è quello del trailer quindi quindi qual è qual è Sia Sonic Team Paramount diteci qual è quello vero qual è qual è alla fine è uscito quello vero pensare che io parlavo così di merda tra l'ottobre e novembre 2018 perché mi avevano appena messo l'apparecchio quindi io gesticolavo un pochettino parlavo male e quindi è normale che dopo alla fine nell'abituarmi un po' a mettere l'apparecchio a parlare meglio dopo questo video vi prego non prendetemi per il culo veramente tutti hanno avuto un proprio passato terribile su youtube e quindi mi raccomando lasciate like commentate iscrivetevi se ancora non siete iscritti attivate la campanella e noi ci vediamo alla prossima ciao